gentilissimi ben trovati ultima seduta di settimana sotto tono in europa dove predomina l'effetto del rialzo dei tassi e la prospettiva di nuove restrizioni nel prossimo incontro della bce il fuzzini dopo l'ottimismo di ieri viaggia sempre in area negativa lo vedete e dopo un minimo a 26.000 recupera in parte avvicinando 6 27.000 che è poi un livello visto e superato anche nella seduta di ieri finendo con un ribasso di oltre mezzo punto percentuale andamento similare quello dell'indice di francoforte di cui tra l'altro a breve seguiremo l'analisi dell'analista filippo giannini dax che limita il passivo allo 0 20 per cento circa avvio timido anche a wall street dove gli indici principali stanno recuperando grazie anche al dato sui posti di lavoro rimbalzato notevolmente nel mese di gennaio pertanto alla chiusura dei listini europei dunque poco fa da jones e nasdaq si stanno muovendo sopra alla parità avvantaggiandosi entrambi di qualche decimo di punto i bancari che nelle ultime sedute avevano trainato piazza affari con numerosi acquisti oggi viaggiano a diverse velocità focus su intesa san paolo che scende notevolmente ad un soffio dal meno tre deboli alcune utilities per cambiare comparto utilities come era eterna appaiate intorno ai meno 2 e 80 per cento a ridosso invece dei due punti e mezzo di flessione troviamo nexi e inuit altra piccola nota per telecom italia in calo dell'1 e 22 per cento in scia al rinvio dell'offerta di kkr che kkr che dir si voglia pirelli più 3 e 61 per cento invece conquista la vetta del fuzzimib grazie anche alle raccomandazioni pervenute da morgan stanley tra i bancari al rialzo c'è fineco con un balzo che sfiora i massimi del 2023 in area 17 euro per azione tra i migliori anche campari poco sotto al 2 50 per cento saipe e dia sorin vanno a braccetto finendo intorno al punto e mezzo di guadagno sul comparto valutario noti sfavorevoli sull'euro dollaro che rallenta attualmente dello 0 e 70 per cento circa riportandosi in area 1 0 8 e 30 avanza invece di mezzo punto percentuale circa rispetto alla mezzanotte di ieri l'incrocio euro sterlina mentre riesce a fare ancora meglio l'euro yen che registra circa un punto oltre anzi un punto percentuale di progresso ed ora come dicevamo d'altronde poco fa la view dell'analista filippo giannini salve tutti ospite di oggi delle interviste di trader link filippo giannini di trading facile punto eu per dare con lui uno sguardo al dax nel giorno dopo la bce a te la parola sì ciao rossana è ben trovata sì tanti temi sul tavolo per quanto riguarda i listini europei nello specifico il dax dopo la bce che ha alzato i tassi di 0,5 punti eh lasciando però tuttavia eh intravedere un prossimo allentamento della politica monetaria quindi ottimismo insomma secondo me anche troppo esagerato dei mercati che hanno festeggiato eh con copiosi acquisti un po' su tutti i principali eh listini quindi mercato che ha rotto l'impasse delle delle ultime sessioni appunto che potevano lasciar presagire a a una prossima debolezza prendiamone atto l'ultima cosa che un trader dovrebbe fare è mettersi contro eh il mercato anche perché di fatto anche nelle sessioni precedenti a alla bce segnali di debolezza veri e propri non ne avevamo avuti io sul blog segnalavo appunto di monitorare l'eventuale violazione del minimo di settimana scorsa quindi eh questo minimo insomma quota eh quindicimila punti eh che avrebbe potuto eh incentivare insomma ecco uno uno storno e qui se andiamo a vedere nelle giornate invece del trenta e trentuno eh gennaio scorso il mercato ha avvicinato e sfiorato soltanto questi minimi ma qui poi il mercato ha visto insomma ehm acquisti importanti e da qui poi siamo partiti con eh l'ultimo uptrend in questo momento c'è da dire che cosa che i listini azionari sono eh fortemente sostenuti anche e soprattutto dal comparto bancario qui vediamo l'euro stocks banks a quattro ore caratterizzato da un forte a trend di breve e quindi la mia view è che personalmente sarà difficile assistere ad uno storno degli azionari con un un comparto bancario ancora così forte nello specifico secondo me solo un ritorno sotto quota eh centodieci dell'euro stocks bank potrebbe appunto portare poi delle vendite eh per quanto riguarda eh il DAX possibile secondo me comunque un leggero storno in quest'ultima parte di settimana e all'inizio della prossima ottava siamo comunque su un livello chiave su un'area resistiva importante a quota eh quindicimila e seicento punti quindi è possibile soprattutto in caso di eh rottura di quota quindici e quattro ovvero il supporto odierno che il mercato vada a correggere fino a quota quindici e due ma quota quindici e due eh livello secondo me molto interessante per rientrare eh in acquisto proprio su quello che è appunto un ex eh resistenza nonché appunto ora chiamata ad assumere il ruolo di supporto di breve quindi eh segnali di debolezza sotto questo punto di vista non ne avremo fino a che rimarremo sopra quota quindicimila punti mentre ripeto quindici e due ottima occasione di acquisto il target secondo me se superiamo quota quindicimila e seicento punti ci sono tutti gli eh tutti gli ingredienti per tornare a vedere un mercato in area sedicimila punti quindi vicino ai precedenti massimi. Perfetto Filippo ti ringrazio per tutte quante le indicazioni e le informazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana, arrivederci a tutti. Grazie Rossana e grazie Filippo per quest'oggi è tutto, non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e arrivederci a lunedì.